Ciao a tutti, vediamo in questo video tre cose da non dire mai ad un uomo. In questo video voglio spiegarti quali sono tre cose che non ti fanno apparire come una donna di qualità, ti fanno apparire come una donna di basso livello. Quindi cerca di evitare queste tre cose perché non ti daranno nessun vantaggio, non ti daranno nessun beneficio ed anzi ti renderanno una donna vista come superficiale, vista come poco interessante. Come fare a... cioè quali sono queste tre cose da evitare? Beh, la prima cosa da evitare è quando lui ti dice qualcosa, magari tu gli chiedi qualcosa, non so che lavoro fai e lui ti spiega che ne so, sono architetto, mi occupo di progettazione, calcolo di strutture, bla bla bla, e ti spiega tutta una cosa magari complicata di cui tu capisci poco e anziché dire ah, interessante però non ho capito, non so, non so bene di che si tratta, se magari vuoi spiegarmi un po' meglio, insomma non c'è nulla di male, non è che uno deve essere tuttologo e sapere tutto, ma tu facendo finta di sapere, dici uh è così carino questo che fai. Ecco questo è veramente, come dire, il bacio della morte e della seduzione, veramente li fa passare come un'oca giuliva e si innescano rapidamente meccanismi di squalifica. Quindi evita accuratamente questa tipologia di approccio perché ci fai veramente delle figure barbine, come si dice. Un'altra cosa da evitare è quando lui magari fa qualche battuta, qualcosa, oppure, che ne so, dice delle cose, insomma magari utilizza l'ironia e tu uh sei così divertente, anche qua andando a certificare il fatto che magari non hai capito la battuta, magari non, magari fai finta di averla capita e fai un sorrisino di circostanze dicendo uh sei così divertente. Ecco un'altra modalità per fare l'oca giuliva. Altra cosa, in cui spesso le donne qua ci cascano, quando tu dici qualcosa legata, che ne so, a una situazione di gossip, a una situazione poco importante che tu segui, è che ne so, dici sai che Giuseppe del Grande Fratello e Mairo del Grande Sorella e Mario del Grande Sorella hanno fatto outing e si sono messi assieme, che ne so, per fare un esempio, e tu dici ma chi sono Giuseppe e Mario? E tu dici uh ma davvero non sai chi sono Giuseppe e Mario? Come se Giuseppe e Mario fossero, che ne so, il premio Nobel che ha rivoluzionato il mondo con una scoperta fantastica per la fisica, oppure come se fossero il Botticelli, per dire, o che ne so, il Pinturicchio. E quindi questo tuo atteggiamento ti squalifica pure, perché tu resti sorpresa del fatto che non conosce Mario Giuseppe del Grande Fratello, per dire, non lo so. Ecco, ho situazioni ridicole di questo genere, ecco, quindi cerca di evitare piuttosto, anziché di una cosa del genere, se dici sai che Mario e Giuseppe hanno fatto outing, quelli del Grande Fratello, per dire, e dice chi sono? Ah, sono due partecipanti, dai, magari una volta vediamo una puntata assieme, ti faccio vedere, sono divertenti. Cioè, tutto è possibile, ma queste affermazioni fatte, come ho detto, sono veramente, ti fanno scadere, ti fanno decadere come femmina, ma anche come donna soprattutto. Un minimo di cultura, un minimo di savoir-faire è necessario, diciamo. Bene, per questo video è tutto, se ti è piaciuto metti un like, iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Termasco. Ti ricordo inoltre che sul canale ti puoi abbonare, abbonando ti potrai scegliere tra abbonamenti base, diciamo, ma soprattutto potrai partecipare a farmi delle domande in apposite live, dove io ti darò delle risposte. Quindi vai sul home page, tastino abbonati e abbonati. Ciao a tutti!